Allora, non so se chiudete il canale, oppure continuate ad andare avanti, perché come sto oggi sono incazzatissimo. Sono incazzatissimo, avete capito bene? Teste di cazzo, io sono incazzatissimo. Ma soprattutto con voi, faccio dei video in HD e mi vengono ottenuti 10 visualizzazioni. Se avete capito bene, butti gli otti nel buco del culo e cerco di contenermi, perché sono incazzatissimo, sono incazzatissimo e cerco di contenermi. Perché sennò vi sparirei un trofico di parole, ti è riuscito all'istante con tutte le parole che vi do. Sti pastanti rotti nel culo. Cioè faccio un video, lo rendo in HD. E non mi vengono a dare le visualizzazioni. Allora, siccome nessuno se lo caga questo video, io sfogherò la mia rabbia. Le materie, perché porca puttana, non se ne può. Non se ne può. Ci sono dei croci che sui tubo. Stanno avendo un boom con minecraft. E hanno tante e tante di quelle visualizzazioni. Sti froci di merda, perché la loro madre si va a prostituire sulla strada. Ma quelli perciò hanno le visualizzazioni, sti bastardi rotti nel culo. Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo, avete capito? Mi sono rotto il cazzo. Perché non è impossibile che io carico un video e ottengo dieci visualizzazioni. Non è possibile. Hai capito? Testa di cazzo. Sì, sto avendo con te che mi stai seguendo. Ma tu chi cazzo sei che vai seguire agli altri? E' bastardo rotto nel culo. Tu chi cazzo sei che vai seguire agli altri? E' rotto nel culo. Perché lui è che come te che lo vai a seguire. E' frocio. O perché sua madre se la fa con tua madre e si va a prostituire per la strada. E' rotto nel culo. Sì, che ti danno fastidio queste parole, eh? Rotto. Rotto nel buco del culo, sì. Eh? Eh? Ti danno fastidio, eh? Sono brutte le parole, eh? ACA! ACA! ACA!